Buonanotte! 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 Il frutto del mio lavoro! È il mio lavoro! È il mio lavoro! È il mio lavoro! Bravo, Sauro. Correi il frutto del mio lavoro! Vai, Sauro, vai! Vai, Sauro! E questo è il domando cinque stelle! E questo è il domando cinque stelle! Vai, Sauro! Sauro, vai! Caricalo, cazzo! Viva Ciccacardo! E ora, parliamo un male con noi! Vi fa il cuore! 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 È il cuore! E ora, parliamo un altro video! I lavoratori! Poi la puntura! Stigato! Stigato! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi siete davanti! Oggi! Oggi è la prima volontà! Quindi che sono considerati i famiglioni di questa città sono un momento di crescita!